Buonasera a tutti, dal Loco Seba, il telegiornale del Barbun, siamo questa sera col telegiornale speciale, dopo 776 anni, circa dal 69 al 2024, quindi 112 anni, non so fare i conti, io conto fino a 10, 1, 2, 3, 4, 9, 10, più di un vado, chiuderà definitivamente, così ha detto Max Bunker in un'intervista, 83enne, Max Bunker, quindi un giovincello, ragazzuolo, chiuderà definitivamente Alan Ford, nell'intervista diceva che si era un po' scocciato, ora è ovvio che poi potremmo entrare in tutte le polemiche, naturalmente Alan Ford non vendeva più, Max Bunker diceva, vabbè vendeva prima, è ovvio che non ha più i numeri delle tirature dell'epoca di Superchuk, ma anche negli anni 70-80, quando Alan Ford era comunque un fumetto per ragazzi, poi nell'ultima parte della vita di Alan Ford con Minuet, siccome poi i ragazzi sono cresciuti, nel senso sono invecchiati e ogni tanto Minuet faceva una doccia, quindi scena anche sexy, quindi tutti questi personaggi spariranno definitivamente dal nostro orizzonte, Scannagatti, Domitilla Scannagatti, sparirà Superchuk, sparirà il conte Oliver e torneranno nel mondo fatato dal quale sono emersi. E naturalmente non è che sia una notizia tragica, nel senso che ovviamente, che vi devo dire, nel senso che era una notizia che un po' tutti aspettavamo, prima o poi sapevamo, ultimamente qualcuno ha detto delle storie, le ultime storie di Max Bunker non avevano tanto capo né coda, su questo posso essere d'accordo, naturalmente la notizia che ha dato Max Bunker servirà a incrementare le vendite degli ultimi 10 numeri, non so in quanto, però certamente i collezionisti a questo punto faranno a gara ad avere almeno gli ultimi 10 numeri, soprattutto l'ultimo numero di Alan Ford, perché l'ultimo numero di Alan Ford ovviamente sarà fra il paio con il primo. Allora, Alan Ford, Max Bunker ha detto che sta creando un nuovo personaggio, Petra, ora su questo io non ci giurerei più di tanto, perché insomma, non lo so, non la vedo molto fattibile, nel senso del mercato del 2023-2024, non è più il mercato degli anni 70-80, uscire sul mercato con un nuovo personaggio di cui non frego la c'è, è ovvio che chi comprava Alan Ford lo comprava perché aveva una sua aderenza, aderenza a un personaggio che comunque l'ha accompagnato per tutta la vita, almeno a me, io sono andato nel 68, Alan Ford è andato nel 69, capirete che mi ha accompagnato, quindi la morte di Alan Ford porta un po', dopo lui tocca a me. Però capite, magari tutti il numero uno lo comprano in tanti, però a 83 anni iniziare, perché il problema di Max Bunker è uno solo, cioè nel senso io non credo molto a Petra per un motivo preciso, perché se Max Bunker fosse un autore che avesse, cioè voglio dire, Max Bunker ha avuto mille possibilità di lasciare in gestione Alan Ford, oggi ho messo questa copertina, un tiro mancino, in fondo è un tiro mancino, questo è uno degli ultimi albi disegnati a Magnus e Bunker, poi potremmo anche entrare nella discussione se Alan Ford è quello di Magnus e Bunker, di Piffarelio, di Perucca, eccetera, perché poi ci potremmo aprire un dibattito, come il Cavaliere Riccardelli, la colazzata a cupo Tionkin, mettiamo il dibattito, però il problema di Max Bunker è che, cioè, è vero Max Bunker ha scritto 600, circa 50 storie, un po' meno perché alcune volte ha messo dei replay delle ristampe, però, vabbè, 150, 648, però questo non è un fatto positivo, nel senso che è ovvio che per Max Bunker è stato un motivo di vita, nel senso che Max Bunker ha avuto vari personaggi, noi ci ricordiamo ovviamente Alan Ford, ma se riprendete questo volume, vedete che prima di Alan Ford ovviamente è il 64, questo è un, mi sembra questo degli anni 70, qualche anno dopo, c'è poi a un certo punto Max Bunker si Magnus ritornòbbi, ritornòbbi, ritornòbbi a, ritornòbbi a disegno, questo è l'ultimo numero disegnato da Magnus, che non, non so che il numero fosse, perché qui non c'è scritto, è stato poi ristampato, credo, dalla migliavola volta la radio pubblica, è la morte del grande Cesare, eccetera, eccetera, l'ultima volta che Magnus, abbiamo la prima volta, vediamo la prima volta del grande Cesare senza gli occhiali, eccetera, eccetera, però non solo di Alan Ford, questo non è il numero, è uno dei primi numeri di criminal, credo che sia il numero uno, il museo dell'orrore, vedete anche il disegno di Magnus, è ancora abbastanza inesperto, il crimine inizia nel 64 e poi ovviamente satanica, la prima satanica, che è sempre, mi sembra del 64, pochi mesi dopo, ma non solo satanica, per esempio un personaggio che un po' è stato dimenticato, Dennis Cobb, che è un ragente segreto, questo è forse uno degli episodi più belli di Operazione Lebe di Osborne, e poi ovviamente il Jezebel, la corsana dello spazio, dove Magnus poteva dedicarsi al disegno femminile, sono delle ruine femminili che imperversano nello spazio come i pirati di Sargari, ma in versione femminile. Naturalmente quindi ci sono stati molti personaggi che sono stati, Maschera Nera, non Maschera Nera, come si chiamava? Mas Bunker, Maschera Nera? Non mi ricordo perché ho cominciato ad un'età. Maschera Nera. Aspettate che, Maschera Nera, Nera, Neta, Nera, Mas Bunker, vediamo se, ah sì, Maschera Nera, Maschera Nera è un personaggio inventato da Mas Bunker e dal disegnatore Paolo Piffarelli, questa volta è la Maschera Nera, sì, Maschera Nera, gli altri personaggi, poi ha una storia bellissima di Magnus e Bunker che qui è di difficile recuperamento, a parte Jezebel, la piratessa della corsana dello spazio, qui anche Max Magnus, opera comica e satirica, ovviamente Max Magnus, prendeva un po' in giro Magnus e Bunker e poi le splendide tavole di Magnus per Lurig Scorpion, che è una forse dei capolavori di Magnus, forse credo che a livello fumettistico sia il capolavoro di Magnus, dal punto di vista grafico io credo che la cosa più bella che abbia fatto Magnus sia Lurig Scorpion che sono 4 o 5 tavole in tutto, poi Lurig Scorpion è proseguito, ma le 4 o 5 tavole di Magnus sono eccezionali, quindi in realtà poi però tutti questi personaggi hanno una caratteristica in comune, che si sono tutti estinti, cioè Max Bunker li creava, li ha creati altri, poi li ha creati ancora, personaggi femminili anche, molti altri personaggi femminili, ci scrissero con il libro Moreno Burattini su Max Bunker, Luciano Secchi in arte Max Bunker, però tutti questi personaggi, una volta che il creatore, per questo dicevo che in un certo senso subì, cioè Max Bunker, credo nel video di ieri abbia la sindrome di Crohn, nel senso che è Saturno che rivole i suoi figli, perché Max Bunker non ha permesso a nessuno dei suoi eroi di sopravvivere, insomma, l'idea di Max Bunker è a premua, le deluge, oppure tutti muoia Sansone con tutti i fumettari. E di questi tre personaggi, certamente, Satani, Crimina e lo stesso Alan Ford avrebbero potuto in un certo senso sopravvivere, magari non nella forma degli anni Sessanta, ma poi il problema delle, cioè c'è la differenza tra Max Bunker e le sorelle Giussani, è che le sorelle Giussani avevano piacere che Diabolik vivesse dopo la loro morte, che comunque qualcosa che avevano creato loro sopravvivesse a loro, non so se si capisce la mentalità, cioè è un po' un modo per sconfiggere la morte. Max Bunker, che è un anarchico e michilista, invece no, lui vuole che il suo mondo finisca con lui, nel senso che l'idea è roba mia, vientrone con me. Mi viene in mente la novella della roba di Verga, nel senso che Max Bunker si vuole portare nella tomba tutti i suoi eroi, li ha creati lui e quindi si riporta a lui nella tomba. Questo è un pensiero un po' simile a Ugo Pratt, nel senso che Corto Maltese è stato gestito sempre da Ugo Pratt, perché non avrebbe, però, mentre Corto Maltese è un personaggio molto bizzarro, è l'alter ego di Ugo Pratt, quindi veramente non avrebbe alcun senso che qualcuno lo continuasse, senza essere un Corto Maltese, sia satanico e crimina, e che lo stesso di Alan Ford in teoria avrebbero potuto sviluppare una vita autonoma, come dei figli, a un certo punto i figli lasciano i genitori, eccetera eccetera. Naturalmente gli eredi presunti di Max Bunker, credo Raffaella Secchi, che sono dei figli che gestiscono il sito mille volte meglio Publishing, credo che in realtà chi tira ancora le eredi del comando sia sempre il vecchio Max Bunker. Non credo che i figli abbiano un potere decisionale di costringere, cioè una volta che, vabbè, ci sono perdi, però finché è vivo Max Bunker è ovvio che i personaggi li decide lui, anche perché poi una volta è un personaggio quando ha chiuso la storia, nel senso la continuità, è un po' difficile di farlo risorgere, nel senso sì lo puoi far risorgere, ma la storia deve continuare, se poi dopo 5 o 6 anni già a questo punto Alan Ford non se lo ricorda più nessuno, ammettiamo che fra 10-15 anni qualcuno volesse suicidare Alan Ford non avrebbe veramente alcun senso la cosa, quindi di questo Max Bunker è perfettamente cosciente, quindi uccidendolo mentre lui è in vita in realtà lo uccide definitivamente. Come del resto sarebbe difficile riportare in vita sataniche e criminali perché, insomma, si può fare come divertissement grafico, io ci devo farla sta cosa prima o poi, ma è ovvio che, cioè, mentre Diabolic ha seguito un percorso per cui il Diabolic che abbiamo visto ieri o l'altro ieri è molto diverso dal Diabolic degli anni Sessanta, è un po' oggi che un crimine satanico si uscirebbe dalla tomba come un barone Vordalac, nel senso come dei vampiri che si trovassero in un mondo che è completamente cambiato agli anni Settanta. Ripeto, non è, cioè, il problema è che non è una questione di giustizia o ingiustizia, nel senso non ha molto senso chiedersi se è giusto ingiusto. Il lettore usufruisce di un qualcosa, di una creazione artistica che Mas Bunker si è sempre tenuto ben saldo, mentre molti autori americani, anche gli autori di Superman, in realtà poi dettero il personaggio alla DC, alla futura DC Comics che poi ci faceva perché gli pare, nel senso che Mas Bunker, come Ugo Pratt, ha sempre fatto in modo che i suoi personaggi restassero a lui, ben sapendo che se fossero entrati, che ne so, nella Mondadori o in qualsiasi altro circuito, pazza storiccioletto, distributivo nazionale, gli sarebbero completamente sfuggiti rimani, quindi avrebbero potuto mettere altri sceneggiatori, avrebbero potuto affiancarlo con altri, eccetera, e lui invece è sempre, diciamo che Mas Bunker è un po' un padre padrone, nel senso che non è, credo, un personaggio arrendevole, da una parte, cioè nel senso che non è un personaggio che ha fatto la storia del fumetto, ma dal punto di vista di strategia di marketing, insomma, a un certo punto imbocca sempre la strada suicida, nel senso la strada suicida per cui il personaggio deve morire con lui, o perlomeno non deve sopravvivere, e su questo credo che noi lettori di Mas Bunker lo dobbiamo accettare come abbiamo, naturalmente anche perché tirare avanti così il personaggio, in un certo senso, dò ragione a Mas Bunker, senza tirarlo avanti così, senza una linea precisa di rinnovamento, che comunque vendendo quelle qualche migliaia di copie che gli ha affezionato, sta qui io, che comunque lo compreremmo sempre, naturalmente per noi è un po' come essere sposati da, ormai da 60 anni, da 50 anni, da qua, 55 anni, 54 anni con la stessa donna, se questa muore poi sì, ti puoi risplosare. credo che sia anche una lezione buddista, nel senso che tutto, credo che forse in questo Mas Bunker abbia ragione, a un certo punto un personaggio che ha fatto la sua storia, bisogna accettare che muoia e che non si trascini stancamente nell'edicole, semplicemente per mero spirito di sopravvivenza. Ora i personaggi di fumetti non sono personaggi reali, quindi naturalmente se Mas Bunker avesse immesso nuova linfa nel personaggio, avrebbe dovuto cedere le redini del comando, le redini del comando, e questo si avrebbe dovuto dire, Mas Bunker io ho creato a Hanford, ora lo cedo, trovo un'altra persona, altre due o tre persone che nel disegno erano le storie, ne hanno fatto le sorelle Giussani, certamente Diabolica è stato inventato dalle sorelle Giussani, ma poi anche il mitico Castelli ha scritto delle storie per Diabolica, non è che questo ha creato le sorelle Giussani, il personaggio era loro, il senso di appartenenza che avevano le sorelle Giussani e chi ha Mas Bunker è diverso, cioè per le sorelle Giussani il fatto che avessero loro creato il personaggio, anche se le storie le scrive Castelli, Gomboli, eccetera, non è importante, perché il personaggio è comunque uscito dalla loro testa. Poi il personaggio è ovvio che nessuno può, è un po' come la figlia, cioè Mas Bunker è un po' come quei padri dell'Ottocento che chiudeva le figlie in casa, nel senso che comunque se la religione ha permesso a Diabolica di evolversi, Mas Bunker no, perché ritiene la sua creazione più simile a quella letteraria, c'è la differenza tra creazione fumettistica e creazione letteraria, è che è ovvio che il Don Quixote è diservante, poi io posso scrivere un Don Quixote, ma non ha alcun significato, non ha alcun senso. La recherche du temps perdu, il barone Charles Dussault, io li potrei riutilizzare, ma veramente non avrebbe alcun senso, perché sono personaggi che sono intimamente legati all'autore che li ha creati, Madame Bovary è Flaubert, Mas Bunker potrebbe dire «Alan for se moi, criminal se moi», come Flaubert diceva «Madame Bovary se moi», quindi lui invede in questi personaggi una sorta di parte di se stesso, per cui non li può accedere, come che nessuno di noi può accedere una mano, un piede o qualsiasi cosa. Ripeto, non è molto, cioè non ha, naturalmente io rispetto la scelta di Mas Bunker, non è che sto qui a sindacare, anche perché veramente se il personaggio deve essere, non so, sulla nuovo personaggio io onestamente ho molti dubbi, per darsi che appaiono le dicole, ma non ho, credo che anche Mas Bunker sia abbastanza intelligente per capire che lanciare oggi un personaggio nuovo in un mercato dominato dal manga, per cui Samuel Stern comunque, che è riuscito a trovare una sua dimensione fumettistica, nel senso non le dico, che comunque ha fatto una fatica bestia, perché è ovvio che i lettori moderni e Diabolic è riuscito a sopravvivere adattando sei tempi, Nathan Neve, la vedo un po' difficile questa cosa, la vedo veramente difficile, la vedo veramente, cioè un'impresa titanica, io se Mas Bunker riesce a portare su le dico un personaggio nuovo, ma poi scritto da Mas Bunker, che comunque ha 83 anni, quindi non lo so, non so che personaggio è, naturalmente molti si sono interrogati su questa petola, siamo passati dal poliziesco al pornografico, nel senso non lo so, sì il nome ricorda, però il fatto che comunque è che non sia uscita un personaggio che deve uscire fa dieci mesi, non sappiamo neanche se è un'investigatrice privata o se è, che ne so, una pornostà ispirata alla vita di Moana Pozzi, potrebbe essere, secondo me è già indicativo, non lo so, la vedo e poi se, scusa che senso ha per un uomo di 83 anni, creare un personaggio che comunque non, considerando i precedenti, non lascerà mai nelle mani qualcun altro, quindi, insomma, anche augurando una vita immortale a Mas Bunker, un personaggio che non è destinato ad avere il personaggio non Mas Bunker, una vita molto lunga, nel senso se tu crei un personaggio, cioè se Mas Bunker mi dicesse sto creando un personaggio, pena, che però lascerò nelle mani mio figlio, io lo creo e basta, e poi lo lascio nelle mani mio figlio di Peru, che io poi me ne vado alle isole Hawaii a godermi la sospirata vecchiaia, allora sì, ma conoscendo Mas Bunker non mi sembra proprio che questo sia il suo metodo di lavoro, se lui crea un personaggio ci sta lui, cioè non mi sembra, non mi sembra dire che non ho più l'età, nel senso poi naturalmente tutto può essere, tutto è possibile, nel senso non mai mettere i limiti alla divina provvidenza, ma a prescindere da tutto questo, i limiti più che dell'età sono quelli del, cioè, di arrivare al gusto del pubblico, che mi sembra intercettare oggi fumettisticamente i gusti del pubblico sia abbastanza complicato, se prendiamo l'esempio di Salone Esterne, è ovvio che ha intercettato il gusto di un pubblico che già comunque leggeva di Landon, eccetera, eccetera, ma non so se che tipo di pubblico voglia, anche perché quando si lancia un prodotto, il milanese mi insegna, ci vuole di stabilire un target di pubblico, cioè io non posso vendere ghiaccioli al Polo Nord o coperte elettriche nel Sahara, non avrebbe molto senso, quindi devo individuare un tipo di pubblico, pubblico dei adolescenti, giovanile, ma può essere, ma qui stiamo parlando veramente del nulla, ho il vago sospetto che continueremo a parlare del nulla, questo è il mio, spero di sbagliare, mentre io ho il vago sospetto che una volta chiuso, una volta chiuso Landford sia chiuso tutto e che in fondo la mille volte meglio publishing continuerà a vivere, credo di ristampe, credo che non è che chiuda l'azienda in se stessa, ma continuerà a vendere per corrispondenza ristampe di crimine sataniche Alanford, Alanford gli serviva a Masbunk più che altro come presenza in edicola per pubblicizzare le vendite per corrispondenza dei volumi di lusso che io non ho mai comprato, perché ovviamente, quindi io credo che semplicemente sia questa la questione, cioè a questo punto da mille volte meglio publishing, avendo già un 660 numeri di Alanford, due o trecento numeri di crimine sataniche e seber si specializzano nelle ristampe, in realtà non ha più bisogno di creare storie nuove che poi nessuno comprerebbe e leggerebbe, credo che la mille volte meglio publishing si stia trasformando semplicemente in un'azienda di ristampe, ristampe più o meno di lusso, per un pubblico di nostalgici, credo che questo sia l'unico target possibile per Masbunk non ne vedo altri, tutto può essere. Parliamo di Alanford, Alanford a questo punto chiude i battenti e dal numero uno che era apparso nel 69, vi consiglio ovviamente di questa edizione della Mondadori, ovviamente se recuperate gli originali meglio, però questa non è fatta male, ha dei bellissimi disegni, quindi vediamo la prima apparizione, in realtà poi vediamo che Alanford comunque ha avuto una discreta evoluzione, qui ancora stile Dennis Cobb, agente seguito, vedete la cariata che ha ancora un aspetto diciamo da meno cadente, Alanford che come tutti, Peter O'Toole come tutti sanno era ispirata a Peter O'Toole, e ovviamente all'inizio sono dei veri e propri agenti segreti, solo abbastanza tardi e poi nel primo numero, ah qui vabbè c'è la storia di Betsy, io avevo avuto un sospetto quando in quest'ultimo numero si è ricitato il numero uno, perché veramente nel numero 651 si è ricitato il numero uno e questo mi ha dato un po' l'idea di un circolo carmico che si chiude, nel senso se tu nel 651esimo numero riciti il numero uno è un po' come se volessi congedarti, qui appare la bellissima Margot, la prima eroina femminile, qui ancora Alanford non è molto rodato per il pubblico femminile, ma già nel numero appare sul Conte Oliver che a questo aspetto ancora abbastanza cialtronesco e diciamo che ancora i personaggi, anche il Conte Oliver nel primo numero, un aspetto ancora realistico fino, questo è il numero due, scusate, numero uno, il numero due è il dente cariato del giugno del 69, Bertina all'inizio di corteggi, che dobbiamo dire di questi disegni di Magnus, Flower eccetera, Bob Rock che è ancora anche lui un aspetto molto realistico all'inizio, è veramente l'alter ego di Magnus, ovviamente aveva Margaux, Grunf, operazione Frankenstein appare per la prima volta i due scienziati tedeschi che parlano di Germania, va bene, è un po' uno scienziato diretto che ovviamente vogliono suscitare la gloria del Reich, poi forse uno dei numeri più belli mai scritti da Max Bunker, la casa dei fantasmi con uno dei personaggi femminili più belli e più affascinanti, anche se è morta, come direbbe qualcuno nessuno è perfetto, io ho sempre avuto una passione segreta per la protagonista morta della casa dei fantasmi che ovviamente è la bellissima gangster, femminile, vabbè, che vi devo dire? Poi ovviamente con gli anni settanta con Super Gulp, Alan Ford riesce ad arrivare a un pubblico sempre più vasto, poi negli ultimi anni si è trasformato, ora qui non è che vi facciamo tutta la storia a grandi miei, magari riguarderemo qualche numero, i primi numeri Alan Ford in qualche prossima puntata, si era ultimamente trasformato in un fumetto, non dico fumetto per adulti, non era per adulti, ma certamente negli anni sessanta, settanta scene di Margot che fa la doccia non l'abbiamo vista, il professor K, il professor K, lo scienziato, lo scienziato nazista, Alex Berry non c'era più, Alan Ford e la Milano, l'albero di Natale, le mitiche battaglie a palle di neve tra Bob Rock e i bambini al vicinato, in cui Bob Rock viene ferocemente bullizzato e nessuno non fregava nulla, e poi piano piano abbiamo avuto anche una fase ante me, quando Masbun che prendeva i fondelli per lo scuola, abbiamo avuto, ci ha accompagnato per tanti anni Masbun. La fine di questa cosa comunque, io nel senso ne sono ovviamente rassegnato, nel senso non è che leggendo gli ultimi giorni Alan Ford non è che ne posso dire, naturalmente qualcuno ci ha accusato di essere dei vecchi nostalgici, però potrei dire la stessa cosa di Zagor e comunque noi Alan Fordisti della primora sopporteremo con molta più degli eccessi, immaginate se chiudesse Zagor, la gente si uccide, noi che siamo stoici, dolore, lo stoicismo imperante, noi accettiamo perché tutto è impermanente, forse questa è la grande lezione che ci ha dato Magni, Masbun, che tutto deve finire prima o poi, se non morirà Masbun, se non morirà Alan Ford, Masbun, che diamogli l'immortalità, prima o poi moriremo noi, quindi poi, insomma, le cose belle devono avere sempre una fine, se questo, se dicessi una cosa simile allo Zagoriano mi accuntella, però questo è il senso della vita, che le cose finiscono, gli amori finiscono, le esperienze finiscono, la scuola finisce, finisce tutto, quindi Masbun ci ha dato questa lezione che credo ne possiamo far tesoro, quindi è finita l'era di Masbun, sì, di Masbun anche, perché non vedo, onestamente non vedo un grosso futuro lavorativo, non so cosa farà Perucca, questo mi chiedono, sono più preoccupato per Perucca che per Masbun, per Masbun ha 83 anni, può andare in pensione, però Perucca è un disegnatore, cosa fa, metta a posta, dà una spolveratina ai numeri di Alan Ford, cosa fa, fa i poster, capite, ma forse anche Perucca, ovviamente di questo, devono averne discusso ampiamente nella redazione di Alan Ford, comunque io ripeto e chiudo la mia stima incondizionatamente incondizionata per Masbun, non approvo molte delle sue scelte, però mi rendo anche conto che il personaggio è suo, nel senso io personalmente non avrei fatto questo, però Masbun potrebbe dire, sì, ma Alan Ford l'ho inventato io e faccio quello che mi pare, sono d'accordissimo, ecco, nel senso che pur non approvando le scelte di Masbun, che normalmente le devo rispettare in quanto Alan Ford l'ha creato lui e giustamente si ha deciso tra dieci numeri, deve finire e finisca, cioè tutto, e un giorno finirà anche il Locus e Basis, come tutte le cose del mondo, anche io, ci dà un memento mori, questa cosa delle campane in Firenze, memento mori, chi è? Tipico gesta la Fordista, e va bene, sopravviveremo senza andare in edicola, certo io risparmio 5 euro, quindi potrei anche essere felice, però veramente andare in edicola, trovarci più Alan Ford è proprio un segno che, va bene, siamo rimasti, mi sembra essere l'ultimo samurai sull'isola, sull'isola, edicola, scemitar, siamo gli ultimi fedeli del Locus e Basis, parleremo, comunque abbiamo, partiamo dalle distampe, ne abbiamo 660 di cui parlare, sono come 1300, io sono tipo Masbun, ho fatto 1300 video, quindi tanta roba, va bene, va bene, qualcuno mi ha chiesto, ma quanti libri approf? Eh, tanti libri, tanti libri, tanti libri, tanti libri, più libri che fumei, in realtà di fumetti ne ho veramente pochi, non tantissimi, cioè c'ho qualche numero originale, sotto questo ci sono legato, ma non c'è neanche la collezione completa di Alan Ford, numero uno non ce l'ho, ovviamente, ce l'ho delle distampe, ma io non sono, cioè per i libri sì, per i fumetti non sono così ossessionati dal collezionista, certo, se mi regalate il numero di Alan Ford è che vi sputo in un occhio, ma di solito a me non l'ha mai regalato niente, né da bambino né da adulto, e anche ultimamente, proprio per entrare, quando vado in una scuola, se c'è una classe derupata e scarrubata, me la danno a me, questi sono i regali che fanno a me, ma questa sarebbe un'altra storia, quindi prima o poi, ma io mi ci trovo bene, o meglio a questa età con i ragazzi e gli adulti che mi danno fastidio, non che creda che i ragazzi diventano, cioè, perché io veramente non ho l'idea che i ragazzi che ho davanti a me diventeranno delle persone normali, come tanti altri, quindi non ho aspettative, cioè io non voglio creare nel ragazzo un'aspettativa, no, sarai uno come, sono vissute migliaia di persone prima di te, migliaia dopo di te, goditi la vita, carpe die, divertiti, fai quello che devi fare, e poi, quando verrà il giorno, te ne andai, non vi sopravedi, ma sbunchi, grazie alla lezione che ci ha dato, che tutto è impermanente, che tutto prima o poi passerà.